Dopo la restituzione un mese fa della palazzina di economia nel quartiere di Colle Sapone, che ospiterà oltre alla sala mensa anche le segreterie studenti, alcune sale di lettura e la biblioteca della facoltà di economia, a dieci anni dal terremoto gli interventi da concludere o addirittura da avviare per la piena fruibilità delle sedi universitarie sono tuttavia ancora molti. A fare il punto della situazione è il direttore generale Pietro Di Benedetto, che ricorda come all'indomani del sisma tutte le sedi universitarie fossero inagibili, a eccezione dell'atrio della facoltà di fisica Coppito. È un'università che si vede strutturata su tre poli, ovviamente. Il polo di Coppito è pienamente operativo, ma stiamo effettuando ulteriori interventi, sia per il miglioramento sismico degli edifici, che vogliamo aumentare e portare al massimo possibile realizzabile. Per questo ci avvaliamo di un finanziamento Cipe famoso che abbiamo avuto un anno fa. Siamo prossimi al bando per l'affidamento dei lavori, per il recupero di quella che era prima la facoltà di economia, e quindi il roio santuario, che possiamo pensare che nell'arco di un paio d'anni possa ritornare disponibile. Un tempo un po' più lungo, anche per il tipo di lavoro che va fatto, è per il vecchio edificio della facoltà di ingegneria, dove hanno terminato la fase di conciliazione tra progetto esecutivo e osservazioni della sovrintendenza, perché comunque è un edificio vincolato. Per il centro stiamo per trasferire una serie di uffici a Palazzo Ciavoli Cortelli, questo avverrà penso nel mese di aprile, non più tardi. Stiamo mettendo in sicurezza Palazzo Carli, è stato già fatto il progetto, approvato, e quindi adesso devono appaltare i lavori per l'ulteriore messa in sicurezza, quindi il ripuntellamento di Palazzo Carli, che consentirà di aprire almeno quel tratto di Via Roma, dove affaccia Palazzo Carli.